Ringrazio le più di 20.000 persone che hanno dato la preferenza a me in Veneto per queste elezioni europee e ringrazio ovviamente tutti i candidati e le candidate che si sono spese per raggiungere questo importante obiettivo e rendere Alleanza Verdi Sinistra la seconda forza politica del centro-sinistra in questo contesto. Una cosa che ci lancia un messaggio davvero molto chiaro, i Veneti vogliono risposte e strategie concrete che è quello che abbiamo proposto nel nostro progetto e nel nostro lavoro di questi anni. strategie per contrastare e eliminare l'inquinamento da FAS, proteggere la nostra salute, proteggere la nostra sicurezza in quest'epoca di crisi climatica. Abbiamo bisogno di stabilità e abbiamo bisogno di strategie chiare questo è quello che abbiamo da offrire e abbiamo necessità anche di molta coerenza. Grazie ai cittadini che in questo senso hanno riconosciuto il nostro valore.